Si avvicina sempre più la deadline di fine ottobre per raggiungere un accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito e molti si chiedono se davvero Boris Johnson abbia intenzione di raggiungere un accordo, se il Regno Unito stia negoziando in buona fede, viste le ultime mosse del Primo Ministro a partire dalla proposta di legge che modifica unilateralmente i termini dell'accordo di recesso già negoziato, firmato e ratificato tanto dal Regno Unito quanto dall'Unione Europea. Ed è interessante che su questo tema iniziano a muoversi anche gli Stati Uniti, dapprima con una lettera dei deputati democratici che avvisavano il Regno Unito che gli Stati Uniti non avrebbero ratificato alcun accordo commerciale col Regno Unito se questo avesse violato l'accordo di recesso e messo in pericolo la pace in Irlanda. E dopo una presa di posizione anche di Joe Biden in questo senso, alla fine si è mosso anche il segretario di Stato, cioè il Ministro degli Esteri americano Pompeo, auspicando esplicitamente che il Regno Unito raggiunga un accordo e superi lo stallo attuale nei rapporti con l'Unione Europea. Una novità da un punto di vista dell'amministrazione Trump che in passato invece si era speso esplicitamente per il no deal. Ecco quindi che la pressione cresce dentro il Regno Unito con la pressione degli industriali, dei cedi produttivi e così via, ma anche da alcuni degli alleati esterni al Regno Unito perché infine raggiunga un accordo ed eviti un no deal che porterebbe conseguenze davvero nefaste sia per l'Europea ma soprattutto per il Regno Unito stesso.